Alcune buone notizie per i consumatori dovute al calo dei prezzi del gas in tutta Europa che permetterà a famiglie e imprese di respirare un po' di più dopo le batoste subite a causa dell'incremento del costo della materia prima. I prezzi dell'elettricità da oggi scenderanno del 55,3% e anche per quanto riguarda le tariffe del gas dovrebbero subire un taglio del 10% ci dice la Rera. Rimangono però ancora molti i problemi per i consumatori, infatti moltissime voci continuano a rimanere più elevate rispetto alla media dei prezzi, ma non solo. A Cremona, come in altre città italiane, i consumatori segnalano problemi. Come Codacons stiamo assistendo a lamentele da parte di molte famiglie perché ci dicono Avvocato, leggiamo da tutte le parti che il prezzo delle bollette scenderà ma la nostra bolletta è rimasta pressoché invariata. È un problema che riguarda i fornitori dei servizi e che molto spesso tolgono da una parte e mettono dall'altra. Una volta esaminate le bollette è possibile capire dove sono stati aggiunti dei costi non dovuti e si può procedere con le contestazioni ai fornitori e all'ente di controllo a Rera. C'è successo proprio ieri a Cremona. Un nostro associato ci ha detto, avvocato, ma io ho chiamato, mi hanno detto che mi avevano mandato una mail, mai ricevuta, e mi hanno detto sì, ma ti abbiamo mandato la mail con la quale ti comunicavamo la variazione unilaterale dei costi da parte nostra. È una cosa sempre più frequente. Quindi attenzione, sì, c'è stato un calo dei costi in bolletta per quanto riguarda energie elettriche e gas, ma bisogna fare attenzione ai soliti furbetti che tolgono da una parte e mettono dall'altra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.